All'epoca forse erano altri tempi, io sono stata accolta negli studi legali, pagata, e quindi avevo accantonato questo sogno, perché per me comunque era un sogno quello del concorso di magistratura, così come accantonai altre strade, come il dottorato di ricerca, dissi di no alle collaborazioni con professori universitari, perché comunque dovevo lavorare. Però mi ricordo un aneddoto, ero già avvocato, un presidente di sezione mi disse, dandomi del tu dopo l'udienza, tu devi fare il concorso di magistratura, anche fra l'altro un processo molto noto. E questa cosa francamente si è messa nella testa e per vent'anni, anzi anche di più, è rimasta nella mia testa. A un certo punto poi, vabbè, mio marito disse, visto che la patologia dello studio tenta questo concorso.